O che succede? Non si può passare? O non vedi, le è chiuso il traffico e c'è la corsa delle donne, le donne, le donne, le professioniste, ma se non passano e partono, tra poco partono, lo vedi, il piazzale è chiuso, ma io voglio andare di là, un poi, un poi, ma quando arriva, ma che si può fare? O giovanotto, queste sono professioniste che corrono su strada, se tu vuoi quelle fisse alle cascine, hai sbagliato l'orario, tu dimmi dopo mezzanotte. Chi è la cazzo? Chi è la cazzo? Chi è la cazzo? No, no. È l'italiana, eh? È l'italiana? Chi è l'italiana? Sì, l'italiana! Conti i piatti! Chi è la cazzo? Chi è il nome dei i lavori affini. Grazie a tutti.